A Sindaco di Arezzo, Alessandro Chinelli, chiediamo che cosa è successo alla Camera dei Deputati, la sua audizione in merito a questo taglio dei finanziamenti. Ma giornata complessa, convulsa, veramente stancante. La mattina ci siamo incontrati con vari sindaci che hanno ruoli vari nella Presidenza e nel direzione del Comitato Centrale dell'Anci, presieduto dall'ingegnere De Caro, che è il Sindaco di Bari, nel corso della quale si è preso in esame che cosa si poteva fare. A seguire, e quindi tra quelle varie cose, quella di protestare per chiedere che il finanziamento per le periferie degradate fosse mantenuto e che tutti i sindaci fossero salvati da questo taglio ritenuto inopinato, ritenuto improvvido, ritenuto sbagliato anche da un punto di vista politico. Anche se, devo dire, oggettivamente questa posizione è stata espressa da sindaci che vengono da tutti i territori italiani e che rispondono a elettorati completamente diversi, dal sindaco puramente leghista al sindaco del PD, al sindaco non presente Nogarin, ma c'era qualcuno che parlava a nome suo, diciamo che rispondono al 5 Stelle. Quindi un comune sentire, diciamo, di difficoltà per effetto del taglio operato con mille proroghe. A seguire, ecco, io già in quella sede ho fatto la mia proposta, immaginando che se il governo ha deciso di tagliarlo, questo finanziamento sarà difficile che ritorni indietro solo perché i sindaci si lamentano, l'hanno previsto che ci sarebbe stata una lamentazione generale. Io ho fatto una proposta che evidentemente viene comoda al comune di Arezzo, che devo dire è stato anche citato come esempio virtuoso di chi ha ben operato fino a questo momento, anticipando le progettazioni, spendendo addirittura dei soldi e affidando anche i lavori a ditte che li hanno poi portati a termine. Io ho proposto che se noi sindaci chiediamo un atto di responsabilità al governo, cioè di rifinanziarci, dobbiamo anche essere noi a dare al governo una garanzia in termini di responsabilità. E qual è? Quella che se il governo ci ha fatto sapere con la posta certificata che la scadenza dell'8 di agosto è stata procrastinata il 15 di settembre, bene, i sindaci che potranno avere consegnata la documentazione del 15 settembre stanno dentro al finanziamento, gli altri decadono. È una forma di responsabilità. È evidente che la dico sapendo che il mio comune è già a posto da questo punto di vista, però è importante porsi nei confronti del governo in una situazione come questa, altrimenti non l'avrei detto, per ottenere il massimo utile o l'utile possibile, perché è chiaro che tutti i soldi non ce li potranno ridare per scelte che hanno operato, giuste o sbagliate che siano e che non voglio discutere. Però con questo taglio si può reperire a qualcosa. Dopo la riunione in Anci c'è stata l'audizione del sindaco De Caro in commissione bilancio e affari istituzionali congiunta, dove lui ha fatto le stesse considerazioni che avevamo fatto la mattina, evidentemente ha usato toni molto forti, lui ha parlato di furto con destrezza, evidentemente da parte del governo non c'è stata un'accettazione di questo tipo di linguaggio, per cui c'è stato poi un irrigidimento, evidentemente sarà difficile che si riesca ad ottenere tutto quello che forse si sarebbe potuto ottenere con una posizione un po' diversa. Io però a quel punto, visto che si era irrigidito il tutto, ho chiesto prima all'onorevole Borghi di aiutarmi a trovare una forma per introdurre un emendamento e lui mi ha messo a disposizione le persone che nel suo staff si occupano di emendamenti alle varie proposte di legge e quindi ho dato l'indicazione che secondo me era corretto dare. Però non certo che poi questa avrebbe trovato il favore di un partito di governo, l'ho scritto materialmente l'emendamento e ne ho parlato con i nostri deputati del territorio, quindi con gli onorevoli Mugnai ed Ettore, i quali sono stati ben contenti di proporlo e che stamattina alle 9 lo hanno proposto. Poi l'emendamento va portato in aula l'11 settembre, va discusso e va votato. Si tratterà di vedere se da qui all'11 settembre matura qualcosa di buono. Grazie a tutti.